www.telecentro.it A Toscana Basket parleremo come sempre di quello che è avvenuto nei campi della nostra regione, poco perché ha giocato soltanto la Serie B nazionale, ma avvolgeremo contemporaneamente lo sguardo alle tante fasi della Serie B interregionale e della Serie C che stanno per iniziare. Ci sono addirittura sei raggruppamenti da commentare. Lo faremo con il coach della Toscana Food Don Bosco, Francesco Parilla. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Bentornato a Toscana Basket. Ti fai sempre desiderare però. No, no, ma vengo sempre molto volentieri. In realtà ogni tanto... Sei uberato dagli impegni. Capita, succede, succede. Poi, prima volta a Toscana Basket, speriamo non sia l'ultima, di Federico Oloschi, ala della Caffè Toscano Piale Livorno, capolista del Gironea della Serie B. Ciao Federico. Ciao a tutti, buonasera. E poi torna a trovarci per la seconda volta quest'anno, no? Seconda. Il coach della Computer Growth Empoli, Luca Vanettino. Ciao Luca. Ciao Ale, buonasera a tutti. Grazie perché con questa serata ti sei fatto un po' di chilometri, no? Eh, per forza ho visto pioveva, mi sembrava una buona idea venire qua. Non lo sapevamo prima, se non l'avremmo fatto a me. Allora, fatte le doverose presentazioni, ricordo che potete interagire con noi inviando SMS o WhatsApp al numero in sovimpressione, vi aspetto numerosi. Direi di entrare subito nel vivo della trasmissione andando a vedere quelli che sono stati i risultati della Serie B nazionale. Prego Alessandro di metterle a video. Eccoli qua, tornano le splendide grafiche di Toscana Basket World Life e Basket World Life. Vedete qua i risultati, da dire che la Libertas non ha giocato perché essendo Williams convocato con la nazionale olandesa la sua partita è stata rinviata. Poi, a sorpresa, Avellino vince a Montecatini di 1, 66-65. Irons, poi ne parleremo, hanno perso tre partite casalinghe, tutte per un punto. Poi, facilissima la vittoria della Caffè Toscano sull'Indiano. La PL soffre soltanto nei primi minuti. Poi Piombino vince un'importante partita casalinga. Gemma invece si ferma dopo aver iniziato bene a Piacenza. Vediamo anche la classifica con il nostro spottino. La classifica della Serie B nazionale è offerta da Guglie, ristorante e enoteca. Il locale degli sportivi porta a mare Livorno. Bene, vediamo anche la classifica. Eccola qua, vedete la Caffè Toscano PL, beata solitudine, a quota 42 più 4 sulla coppia, composta da Libertas, l'altra Livornese, e Hirons Montecatini. Gemma è a 30, si sta avvicinando al quarto posto un vasto gruppetto, nel quale c'è anche l'altra Toscana di questo campionato. Vale a dire, la Solbat, questi erano i numeri, adesso andiamo con le parole e con le immagini partendo. E non solo per dovere di ospitalità da Federico Loschi. Allora, un grande momento per la tua squadra, non la vittoria consecutiva. Ieri probabilmente, correggimi se sbaglio, la miglior prestazione di tutto il campionato. Sì, sicuramente, è un periodo bello, è un periodo tosto, stiamo lavorando tanto e meno male che i risultati pagano. Dal mio punto di vista ero un po' in ansia perché già la squadra in mia assenza stava andando bene. Ho detto che sarà difficile fare meglio, nel senso che gli ho lasciati l'anno scorso, durante una serie di play-off contro Mestre. Gli ho ritrovati praticamente prima del derby, prima in classifica. E invece nel giro di ritorno siamo riusciti a fare ancora meglio. È culminata con una partita, secondo me, importante come quella di ieri perché credo che nessuno si aspettasse comunque una Legnano così. Sì, nel senso è una squadra ottima, fatta di giocatori esperti e forti. È stata una prova di forza sicuramente. Chi si poteva dire che siamo una squadra magari giovane e inesperta, contro una sicuramente di compi esperienza, è stato un dominio dall'inizio alla fine. Quindi è stato bello per i tifosi, era strapieno io a due anni che sono qui e forse è stato il numero più alto di tifosi. C'era veramente tanta tanta gente. Senti, come stai? Sto bene. Parlavo prima con i due allenatori che per me è difficile... Hanno provato a circuirti. No, per me è difficile perché nella mia carriera ho sempre giocato tanto e ho sempre cercato di giocare da protagonista. Come dissi all'inizio campionato, anche per ripagare la fiducia della società e dell'allenatore che mi hanno tenuto in un momento difficile, la mia carriera è il più brutto perché non mi ero mai infortunato. Dovevo e devo rientrare in punta di piedi, quindi sicuramente stare in campo 30 minuti, poter sbagliare tante cose è più semplice per me. Adesso posso sbagliare di meno, posso magari essere meno appariscente, però credo che questa squadra qui non gli serva la mia... Il tuo ventello. Esatto, il mio ventello. Ho i tifosi o il mio papà o la mia compagna quando mi vedono fare 6 punti dicono... Ma come mai? Hai fatto schifo, ma io stesso sono uno che ho sempre amato fare 25. Adesso vedo la gente che dice hai difeso bene, rimbalzi. Io sinceramente ho sempre fatto solo i punti e ovviamente mi sento di non essere quello che ero prima. Però l'allenatore mi chiede altre cose quest'anno, la squadra ha bisogno di altre cose, quindi diciamo che sto bene finché la squadra vince, anche senza il mio contributo principale o come è sempre stato, sono contento. In più ho un gruppo di ragazzi incredibile, quindi sono contentissimo. Poi conta vincere, il resto conta meno. Questa nuova collocazione diciamo da attore, sì protagonista, ma non unico protagonista, secondo me ti ha fatto crescere nella fase difensiva. Sì, è un po' come quando... io sono molto sincero, non voglio essere ipocrita, è un po' come quando si dice che una ragazza è simpatica. Io penso che invece Marco Cardani sia molto contento di questo. Sì, infatti Marco sicuramente lo valorizza, però non è il mio diciamo. Io ci sto provando per Ancadesi, sono entrato l'ultimo quarto, per provare a contribuire difensivamente. Ieri Scali avevo veramente un altro passo, due volte mi ha lasciato sul posto. Devo migliorare perché se entro e prendo le penetrazioni anche sul meno 30 non è quello che mi viene chiesto. La mia testa spesso è quella di conservarmi in difesa per poi essere efficiente in attacco. Quindi devo riuscire a cambiare questa cosa. Ma ripeto, la cosa che mi dà una grande spinta e a cui non sono ipocrita è la gente. Perché sia quando mi sono fatto male che nel periodo che stavo male mi hanno aspettato e adesso non c'è nessuno che mi chiede di fare di più di quello che sto facendo. Quindi sto riprendendo, mi sono fatto un mazzo forse per la prima volta in carriera grande per rientrare. Quindi sono contento, non sono al 100%, però spero di arrivarci ai play-off. Quando conta. C'è un messaggio che è arrivato ovviamente da un tifoso PL. Grande Federico, per sempre uno di noi, sei il nostro leader. Ti senti tale anche all'interno dello spogliatoio? Mi sentivo tale, sì. Mi sento tale, no. Perché ripeto, questa squadra secondo me non ha bisogno di leader. Siamo dieci giocatori dove Chiarini gioca secondo me un giocatore incredibile. Ma allo stesso Pagani sono contentissimo per Giordano che tanti tifosi inizio campionato mi dicevano erano un po' dubbiosi. Secondo me è un giocatore incredibile che deve essere un po' di fiducia, deve essere incentrato. Io ho fatto una parità ovviamente aiutata dal fatto che Legnano li ha battezzati lunghi, però ha fatto una parità importante. E Matteo, cioè la Ganae entra, gioca 15-16 minuti, Chiarini uguale. Non c'è un giocatore che... Diciamo che il nostro leader tecnico in questo momento secondo me è Chiarini, perché quando conta la palla ho sempre amato averla io, in questo momento credo che sia giusto che ce l'abbia lui e quello per me è il leader. Io posso aiutare da dietro con le parole, sicuramente ho più esperienza, molto spesso sono quello più nervoso che parla con gli arbitri, però mi sento un leader in questo momento, non sento che questa squadra ha bisogno di un leader principale, siamo tanti giocatori che si dividono questo ruolo. Va anche detto che dopo l'esordio sfortunato del derby, da quando sei rientrato, hai sempre vinto, questo è un dato di fatto, quando tu magari ti sminuisci non sarà, però comunque c'è un po' anche del tuo in questo filo. Tante persone mi dicono questa cosa qui, da quando sei rientrato tu non si perde più, secondo me sono coincidenze, secondo me siamo una squadra che la metto non in maniera umile, in maniera coerente, siamo a livello di Irons, Libertas, io ci metto anche Omegna e Gemma che sono un passo indietro magari, però sono in un gruppo neanche legnano, è ovvio che fino adesso secondo me aver vinto ad Avellino è stata una partita tosta, le altre partite erano una partita che dovevamo vincere, a Sant'Antimo è stata una partita importante, però io credo che la mia squadra senza di me, aver perso a Rieti e Sant'Antimo siano state cose strane, non cose che con l'oschi si vince a Rieti e a Sant'Antimo potevano vincere benissimo senza di me, è ovvio che fa piacere, è un po' particolare arrivata dopo la vittoria, esatto, l'ho proprio per Italia, quindi ripeto, sono contento, in tanti mi dicono da quando sei tu non si perde, però credo che sia più merito dei miei compagni che è merito mio insomma. È un dato di fatto, Federico fa il modesto, però quando lui era infortunato anche tanti ascoltatori mandavano messaggi e quando arriverà all'oschi questa squadra diventerà ancora più forte e questo è un dato di fatto, non perché Federico è qua. No, ma forse è il grande segreto a volte che c'è dietro all'apparenza di un roster forte, perché avere un roster forte sì, ma avere un roster forte che si può permettere di avere un giocatore super come lui che rientra già dalle parole che ha trasmesso, l'umiltà con le quali le ha dette, fa capire appunto uno spogliatoio che è unito e se un giocatore così importante si mette a disposizione capendo il momento del gruppo è chiaro che la squadra non può che non fare un salto di qualità insomma, quindi è una cosa non scontata per niente, ma appunto secondo me le coincidenze invece non ci sono e questo lo testimonia appunto quello che ci ha detto raccontandoci appunto la sua annata. Anche perché Francesco, quando esce dalla panchina uno come l'oschi sicuramente le attenzioni dei coach avversari sono focalizzate anche sul suo ingresso e questo probabilmente lascia anche spazio agli altri, o non mi sbaglio? Sì, sicuramente l'oschi è un giocatore importantissimo e tutti ci danno sempre un occhio di riguardo. Quello che voglio dire di lui che non conoscevo personalmente fino adesso è che sicuramente ha l'atteggiamento e la mentalità migliore possibile, l'ho visto sui gradoni del Palamacchia sabato mattina lavorare ed è stata una carica che ho fatto notare anche ai ragazzi delle giovanili che erano lì, un professionista che si mette a faticare senza la palla, un tiratore che non può tirare perché si deve rimettere in forma e la voglia che aveva in quel momento mi ha fatto capire che spessore di rabbia anche che c'era dietro questa cosa. Poi comunque credo che forse la PL in questo momento non ha tanto bisogno dell'oschi leader tecnico ma del leader emotivo diciamo, anche del suo carattere, il fatto che ha detto prima lui stesso che è uno che parla con gli arbitri, questa cosa può aiutare sicuramente un gruppo molto giovane, sempre se fatto nella maniera più giusta e funzionale e poi un'altra cosa che mi ricordo chiaramente è una delle prime partite in casa in cui giocavi, c'era un momento di stallo a fine terzo quarto che la squadra era in bonus e lì avevo la sensazione che si stesse attaccando un po' male e tu hai preso se non sbaglio tre falli consecutivi per andare in lunetta e quella è una cosa che è la malizia che può avere un giocatore forte ed esperto come lui, magari piano piano anche questa cosa la trasmetterà agli altri e sicuramente darà una grossa mano. Poi comunque stiamo parlando di un giocatore che viene da un'infortuna importante, piano piano si sta rimettendo a ritmo partita, sta giocando anche già parecchi minuti perciò sarà sicuramente l'acquisto di gennaio migliore possibile. Senti, venendo alla partita con Legnano è stata una partita un po' particolare quella contro la compagine di piazza perché voi siete andati molto sotto, è vero che loro li hanno battezzati però nel basket di oggi vedere una squadra che tira solo 13 volte da 3 punti come avete fatto voi è un po' sui generis, questo per dire cosa? Che la vostra è una squadra multidimensionale che sa adattarsi alle circostanze, a volte la vince tirando da 3 e ha ottime percentuali perché all'inizio di tordeo c'era qualche squadra che vi battezzava da 3 punti. Adesso siete in grado di vincerla sia col tiro da 3 punti che da sotto come si visto ieri, pagare 9 su 10 di UF di 9 su 10. Sì è stata una sorpresa per me perché io non lascerei mai, preferisco prendere 10 tiri 3 punti nel senso sperare che sbaglino che 10 tiri da sotto che è più difficile che escano però sono scelte, ripeto, secondo me non si ha una squadra di tiratori puri, escluso me magari che faccio quello e non so la scelta che sia stata perché Chiarini è un giocatore che spesso tendono a battezzare. Anche perché nell'uno contro uno magari ti batte. È quello che dico io, tante squadre all'inizio lui era scioccato perché tivano 1-2 metri e ci pensava a tirare, io ero fuori e dicevo mate tira perché fai canestro però ovviamente è una scelta secondo me, io gli starei più staccato perché è un primo passo incredibile se vuole attaccare, anche Campori, Laganà, cioè non sono tiratori puri e da pick and roll sia Matteo Laganà che Chiarini che Rubini hanno una capacità di passare la palla super quindi ma soprattutto all'intervallo mi aspettavo che dopo essere stati meno 15 e aver preso 20 punti da uno e 20 punti dall'altro cambiassero le cose, invece sono andati avanti così e sono scelte, io non mi sarei aspettato una difesa così la prima volta che la vedo in due anni, ma faccio caso con Desio per esempio, squadra molto tattica, io ho uno schema per me fatto per me, due volte l'ho chiamato, sono passati a zona e mi hanno spaccato lo schema però è una tattica, questa qui era un po' strana, ci ha stupito anche a noi, siamo atti avanti io l'ultima azione sono andato a pick and roll, ero da solo libero, poi l'alzata di UF giustamente ha fatto una cazzata, ma non mi era mai successo di arrivare a ferro Così facilmente? Sì, senza difesa, un contenimento basso, senza rotazioni, strano, però meglio così A parte che la Piale di ieri, Luca e Francesco avrebbe vattuto probabilmente chiunque, perché è una squadra che poi ho notato una cosa, gli altri 30 difendevano come se il punteggio fosse in equilibrio e questo io a questa latitudine l'ho visto fare soltanto alle squadre di Barsotti e questo dimostra che è una squadra che è sempre sul pezzo Sai, mi aggancio un po' a quello che ha detto all'inizio, cioè quando sai comunque di ruotare in tanti giocatori e quindi comunque già prima della partita ormai c'è una gerarchia comunque accettata da tutto il gruppo, è ovvio che se sai di dover condensare un attimino di più quelli che sono i minuti, devi alzare necessariamente l'intensità e il ritmo con il quale sta in campo, cioè se la richiesta è giochiamo tutti, chi è in campo però sta piegato sulle gambe, difende, va al rimbalzo, si butta su palloni, cioè questo diventa ed è accettato e riconosciuto da tutti che non è mai facile magari appunto imprimere in tanti che si sono, che arrivano magari da fuori, ecco imprimere una mentalità del genere se tutti sono convinti questo è veramente un punto di svolta perché come ci ha detto prima, è logico io so di giocare meno, magari rinuncio a qualcosa di mio per fare qualcosa in più per la squadra e questo secondo me è un dato veramente importante e se ci credono tutti diventa una squadra veramente veramente temibile, più di quanto già lo è ora Non so se ieri eri al Palasport, Francesco, da coach, probabilmente questa cosa avrà colpito anche te? Ma intanto un colpo d'occhio al palazzetto veramente straordinario, ero stupito ancora una volta da quanta gente, quanta gente accesa, quasi una curva globale insomma Palasport e curva? Sì, sì, a volte sembra così, soprattutto nei momenti in cui ci si esalta in campo e succede qualcosa, una tripla, una schiacciata, veramente è bello da vedere Detto questo, sì, ieri onestamente è stata una partita indirizzata, diciamo dal secondo quarto in poi, ecco così, e poi non c'è più stata storia e neanche una reazione Credo che appunto la profondità del roster e anche la varietà di soluzioni che può avere questa squadra un po' mette in difficoltà chiunque, la coperta difensiva è sempre corta ieri hanno fatto una scelta gli avversari ma altre volte altre scelte sono state punite durante la partita perché poi questa è una squadra che riesce a trovare varie soluzioni c'è giocatori molto versatili, c'è anche un lungo che è lo biondo che può aprire il campo e tirare da fuori e lunghi invece che sono molto più pericolosi dentro, è veramente una bella carta da pelare e sta andando benissimo oggettivamente, sta andando benissimo con tutti Ci sono alcuni messaggi, anzi più di alcuni, leggiamo qualcuno, grande fede, portaci in Serie A e se non arriverà ce ne torniamo al bar, ce lo dice un amico che si firma solo rete e poi c'è un altro sempre per te, vediamo se lo recupero fra i tanti, Federico grande persona prima che top player, un saluto a Fede e dale da Fabrizio il distributore Aci che è presumo il nostro distributore di film, salutiamo questa è pubblicità, esatto, neanche tanto occulta, salutiamo Fabrizio, c'è tanto affetto nei tuoi confronti Federico, penso che tu lo percepisca, c'era lo scorso anno, paradossalmente c'è ancora di più quest'anno No, io dico una cosa, visto che ieri c'era Tommaso Marino, dico una cosa strana perché quando mi feci male a maggio, sapevo di avere un contratto biennale ma nella mia testa sapendo che sono pigro, sapendo che quando Marco mi firmò l'anno prima gli dissi guarda Marco io non sono uno che si allena, tu alleni tanto, io non faccio fondamentali, Marco cioè litighiamo, prendi un altro giocatore e mi ricordo che Livorno insistette per prendermi fu la cosa che io dopo Rieti volevo trarre in serie A, ero nato a Rieti perché la mia compagna era incinta del secondo bimbo ma la mia ambizione di trarre in serie A anche perché in serie B ero difeso parlavamo prima con gli allenatori, non è un campionato facile, in serie A hai molti più spazi, in serie B no e quindi quando mi feci male ho detto adesso hanno tutte le scuse per mandarmi via comunque sono un personaggio particolare, la mia compagna fa un lavoro particolare, sono un ragazzo che non ha mai lavorato come un pazzo, nove mesi di infortunio, io non sapevo, comunque non sono messo uno che si tenesse in forma perfetto, questa cosa del presidente che si è dimesso ho detto adesso sono un disastro, Francesco Farnetti mi ha detto io ti tengo, ti aspetto Cardani poteva dirmi guarda transiamo, cosa potevo dire, niente la gente continua di ti aspettiamo e mi sono messo a dieta, ho lavorato come un pazzo nei gradoni che in vita mi erano mai fatti, lavoravo 5 ore al giorno in piscina alle 8 del mattino e questa cosa qui mi ha fatto cambiare pure come persona perché se prima oltre i miei due bambini che mi hanno fatto, prima ero un po' più arrogante, adesso tutto quello che faccio io dico se lo fanno i miei figli è brutto, quindi è tutto un insieme di cose che mi ha fatto arrivare adesso a essere anche i rapporti con la gente, prima ero molto più distaccato, adesso questa città sembra una cazzata però sento questo calore ovunque vado a vivere la città perché porto i bambini all'asilo ed è bello e come dice lui il piellino medio è più semplice come persone, ti fa sentire, poi se perdi ti ammazza però nel senso ti fa sentire questa cosa che è incredibile, la senti proprio dentro e loro con me che sono una persona comunque sai magari Instagram, magari sembra che faccio una vita facile, invece quando ero fuori la gente come dici tu mi diceva oh quando torni, quando torni, adesso mi dicono oh dai eh ci siamo ed è una cosa che obiettivamente mi guardo e dico ok posso andare via da Livorno ma dove vai? Cioè è difficile trovare una realtà così bella nei miei confronti e della mia famiglia quindi li ho già ringraziati tante volte ma li voglio ringraziare Assolutamente molto bello quello che dice, tra l'altro Marino che tu hai citato ieri ha detto che il pubblico della PL non è il sesto ma è il settimo, è l'ottavo uomo e quanto vi aiuta nei momenti di difficoltà? Ma tanti... Tu hai avuto una grandissima carriera, penso pubblico così, forse Bologna fortitudo? Sì, così carico, ho giocato a Trieste quando mi è vinto la Coppa Italia del campionato c'erano sempre 6.000 persone ma erano 300 che facevano il tifo, gli altri erano a teatro qua sono 3.000 quelli che sono, 2.500, 2.000 non lo so, 2.000 che fanno casino e ti fa tanto, tante volte dico per una squadra giovane come la nostra a volte è controproducente perché se parti 2 a 8 come spesso succede perché qua la gente... Poi mi spieghi perché è? No, io gli allenatori lo sanno, nel senso quando sei la favorita, chi gioca contro di te tanto al palamacchio dicono se perdiamo è normale, se vinciamo c'è un miracolo quindi vengono scarichi e quindi tu sai che tanto parti 2 a 8 la gente comunque normalmente borbotta e comincia a salirti la pressione, se sei pari al poco della fine, invece quest'anno 2-3 volte sul meno 10 mi ricordo contro Caserta o Fiorenzuola, la senti ma la cosa che più mi faceva male quando stavo fuori era lì sotto e vedere i miei compagni che segnavano una bomba e senti questa gente che esplode, io 2-3 volte mi alzo la testa e dico wow perché è figo e infatti vorrei stare in campo 35 minuti per godermi questo spettacolo, non stare in panchina e impazzisco per questa cosa e Cardani ogni volta infatti mi arrabbio ma ormai è il mio padrino praticamente quindi mi deve calmare, fare da psicologo però scherzi a parte è veramente bellissimo giocare lì dentro, è uno spettacolo. Assolutamente, tornando alla partita di ieri abbiamo detto dell'ottima prestazione dei due lunghi, 20 a testa, difficile trovare due centri che fanno 40 punti nel basket di oggi, è stata una partita, io ho i capelli bianchi, ne ho viste tante, è stata un po' la partita di una ventina di anni fa, tiro da te si tira però si va tanto sotto, è vero che l'Agnario ti ha dato il destro per andare sotto però è stata una partita un po' particolare quella di ieri. Quando una squadra riesce ad avere una doppia dimensione e l'equilibrio anche nella gestione della partita stessa diventa poi anche difficile perché comunque la difesa reagisce sempre a quello che l'attacco fa o meglio cerca di dare una direzione all'attacco e comunque all'iniziativa, è chiaro che quando poi una squadra ha la lucidità di capire dove è indirizzata la partita, che andamento ha, diventa un problema, quando si sceglie ora il tiro da tre punti è diventata comunque, va per la maggiore diciamo in tutte le partite, quando si riesce poi ad andare avanti, a cercare di aumentare le più soluzioni avvicinandosi all'area, è chiaro che se una squadra riesce a fare questo diventa poi un problema, una squadra forte poi come loro ha maggior ragione. C'è un messaggio, ti chiede Federico, ma è una domanda che allargo anche a Francesco e a Luca, quali sono nell'altro girone le squadre più accreditati? Tutti parlano di Ruvo di Puglia ma non c'è solo Ruvo di Puglia. Ma io ho visto, anzi i miei figli mi hanno permesso di vedere Mestre e Ruvo di Puglia, io voglio fare bene a Giovanni Lenti, quindi l'ho visto contro Ruvo di Puglia e obiettivamente senza Tognato, Contento e Diomede sono andati a vincere a Mestre e quindi è sicuramente un'ottima squadra, esperta, lunga e mi piace molto. Roseto sinceramente non conosco, conosco Santi Angeli e Manzari, spero gli altri giocatori non li conosco, però stanno con l'allenatore, secondo me. Facendo molto bene. Sì, si sono andati molto bene all'allenatore, quindi anche San Vendemiano è una squadra profonda, a me l'entusiasmo che porta Laudoni, nonostante sia molte volte criticato, ma è un giocatore che io scherzando con Marco, gli dico che lo vorrei sempre, perché lui secondo me ha questa capacità di portare entusiasmo nelle squadre e quindi anche San Vendemiano, la stessa faenza che sono in 27 a giocare, sono preso pure l'americano, non so francese, cioè sono tante squadre, secondo me sono squadre più esperte nell'altro girone e quindi ti direi Ruvo assolutamente e a me San Vendemiano piace come squadra, più di Roseto, più di Iesi che adesso è quarta. Concordi Luca? Come compattezza sembrerebbe che Ruvo anche in situazioni di emergenza è riuscita comunque a emergere. Una bella benedizione, dice vuole dopo quello che gli è successo lo scorso anno, tanti infortuni, quest'anno altre tante. Sì ma infatti probabilmente anche un ambiente che ha già superato varie difficoltà e che riesce comunque a ottenere il risultato, le altre squadre probabilmente sì, Faenza poteva fare qualcosa di più all'inizio, è sicuramente un po' in ritardo, sono roster comunque competitivi, roster forti, però quella compattezza che ha dimostrato in situazioni di emergenza Ruvo probabilmente con l'andare avanti nel campionato può essere una cosa che poi potrebbe rivelare decisiva. Francesco, concordi? Ma sì, in realtà conosco poco dell'altro girone, Ruvo sicuramente si può dire che è la squadra più accreditata, però credo anche che come si arriva il playoff, dipende dalla profondità del roster e come ci si arriva il playoff, quindi così lo diciamo adesso, Ruvo a bocce ferme è quella che sembrerebbe più avanti delle altre, però è lungo, è tanto lungo. Un messaggio per te, per l'oschi una V sulla guancia. Credo sia mia mamma questa, non so, ha intuizione. E sarebbe la V? No, è una storia troppo lunga da raccontare. Ah, come no, la raccontiamo? No, ho pure preso parole una volta perché quando ho tirato i liberi, siccome ero un po', cioè, lui parla, esatto, estroso, non riuscivo mai a stare calmo, quindi parlo sempre con gli arbitri, prendo tecnici, eccetera. Quando andavo in lunetta non riuscivo mai a trovare un modo per calmarmi, allora ho imparato una filastrocca e faccio sto segno e la mia fidanzata un giorno mi disse, ma perché è che fai sto segno sulla guancia? E ho detto che mia madre, ovviamente non mi ha creduto, pensava che fosse una dedica per qualcuna in tribuna, litigata incredibile, e poi mia mamma ha dovuto motivare questa cosa, quindi sì, sempre così, io ogni volta che faccio la cosa faccio danni. No, non c'è proprio, nelle difese avversarie soprattutto, mi piace dire, mi viene. Allora, chiuso l'argomento PL, parliamo anche delle altre squadre, partendo da Hirons Montecatini che ha perso a sorpresa in casa con Avellino, 66 a 65, diamo un'occhiata anche alle prestazioni individuali, 15 di Chiara, 18 di Radunic che tira con 4 su 7 da 3, ma con 1 su 5 da 2, ecco qua anche l'immagine Federico, Hirons è un momento che sta accusando una evidente flessione, sembrava una compagine quasi imbattibile, voi l'avete battuta durante le feste nazionali, e da lì qualche sassolino nei meccanismi di Barsotti è entrato. Secondo me sono quelle squadre che possono un po' incepparsi, ma vanno avanti, non so come dirlo, cioè come un trattore lento ma costante, loro giocano sempre nella stessa maniera e sono secondo me la squadra perfetta per la Serie B, adesso questo nuovo innesto che io personalmente non conosco gli ha un po' sparigliato le carte, secondo me perché ha un po' tenendo conto che Chiara ha un talento incredibile, però in quella squadra lì è il giocatore forse con più talento che hanno preso e loro la cosa è incredibile che sono tostissimi in difesa, dell'uomo Giancarli sono tosti come un pivot, Lorenzetti è una bestia e loro in questo momento probabilmente stanno avendo, hanno avuto anche sfortuna perché se perdi tre partiti di un punto e chiamarla crisi mi sembra un po' strano. Secondo me hanno perso con Avellino che non a caso ha due dei lunghi più forti del campionato e contro i cambi sono più agevolati. Bortolini infatti hanno fatto i 17 tra cui il canestro della vittoria a 42 secondi dalla fine. Sì ma anche il fatto è che Bortolini comunque la palla che va interna devono raddoppiare quindi si aprono gli spazi per i tiratori, è un po' quello che l'anno scorso dicevo che con tutto il bene che voglia Giovanni, Giovanni comunque gli permettevano di giocare uno contro uno perché comunque è una stazza che non serve andare a raddoppiare, mentre quest'anno Pagani o comunque il Pagani che stiamo vedendo adesso ti porta a raddoppiare perché uno contro uno è immarcabile dal mio punto di vista, quindi raddoppiandolo si aprono gli spazi per gli altri. Tra l'altro Pagani per essere un pivot è anche molto tecnico perché ha un uso del piede perno veramente da manuale, è difficile da trovare in un lungo soprattutto a queste latitudini. Se sta nella partita è un giocatore da serie A2 ma alta serie A2 e non è, secondo me è solo questione di che la sua testa sia serena, non è questione che deve fare un grande lavoro mentale, lui è un giocatore secondo me, è un ragazzo timido, è un ragazzo introverso e se lui è sereno sono sicuro che farà un finale di stagione ottimo. Barsotti nell'intervista post partita dice che la sua squadra non è brillantissima, che è l'impressione che ha dato in queste ultime uscite? Ma è una squadra come sempre, cerca di tenere sempre un ritmo alto, cerca sempre di aggredire in difesa ed è fisiologico comunque che non si possa mantenere una costanza in tutta la parte dell'anno, se appunto il sistema e il metodo rimane quello. Chiamarla crisi per il campionato che sta facendo mi sembra un po' le crisi sono altre, sicuramente per caratteristiche magari anche degli avversari e per momento fisico può succedere come è successo nell'ultima giornata, però è una squadra sicuramente costruita per vincere, che ha tutte le possibilità per vincere e che magari un piccolo calo fisico, un innesto importante come hanno fatto, che ha spostato sicuramente un po' quelli che erano di equilibri in campo, può aver momentaneamente fatto un po' la differenza, però penso che abbiano tutte le possibilità per ritrovare quella brillantezza che ha detto Barsotti che adesso manca. Una squadra quella di Federico Barsotti, Francesco, sicuramente attrezzata così come la PL, come la Libertas per arrivare fino a un fondo. Eh sì, sono molto forti, sono profondi, ci sono anche due calabresi da loro, quindi io un po' di... Per affinità. Sì, sì. Dell'uomo e Carpanzano tra l'altro sono... Carpanzano è un po' che è fermo ai box, per precauzione però è fermo ai box. Eh, infatti appunto queste piccole cose ogni tanto magari possono mettere qualche granello di sabbia in questo ingranaggio, loro come diceva giustamente il futuro coach. Hai già pensato a cosa fare dopo? Sicuramente l'allenatore. Sicuramente l'allenatore. L'arbitro. L'arbitro fa l'arbitro, suggerisco. Mi torna tutto indietro. Poi in realtà adesso si può, perché hanno tolto il limite d'età, quindi si può stare anche a 30 anni come... A proposito di Montecatini, sì, sono una squadra forte e anche l'altra Montecatini a mio avviso è molto forte e appunto forse è meglio perdere qualche partita adesso e prepararsi bene per quella che è la fase più importante dopo. È chiaro che i giocatori devono essere in forma e brillanti per poter giocare con quel metodo in quella maniera là, cambiano spesso e su tutto e quindi ci vuole una freschezza e una brillantezza che chiaramente magari è un turno infrasettimanale, tre partite una dopo l'altra in una settimana, qualcosa si può inceppare. Comunque ci sono anche gli avversari poi e ogni tanto succede che... A volte viene spesso sottaciuto, no? Che si gioca in due. Un po' di serenità, i campionati si vincono alla fine, perciò sarà un bel finale. Federico, Ironz è una squadra profonda, solida, lunga, ben allenata da corsa, anche per il massimo obiettivo della promozione. Che impressioni ti ha fatto? È stata, se non vado a rato, l'ultima partita nella quale non hai giocato, quella di Montecatini? No, no, l'ho detto, per me sono una squadra perfetta per la Serie B, nonostante magari noi a livello atletico, a livello di talento, a livello di gioventù, siamo tre squadre, secondo me, tutte con delle qualità. La Libertà, secondo me, ha la grandissima qualità che ti porta a giocare al loro ritmo ed è una cosa difficile perché anche Brianza, che è una squadra apparentemente di un talento incredibile, corsa, loro li hanno devastati, li hanno portati a giocare al loro ritmo e la Libertà sin questo è fortissima. Ironz gioca a pallacanestro in una pallacanestro che, se un allenatore di Serie A vede Ironz dice ma non possono giocare, fanno cambio su tutto, uscite, un macello, però hanno un entusiasmo incredibile, fa canestro, si alzano in dieci, è una brutta squadra, ma bella, per fare parte di Ironz... È una brutta squadra da affrontare, esatto, voglio dire questo, sono belli da vedere perché sono entusiasti, sono carichi, secondo me sono tre squadre, siamo tre squadre diverse ma tutte quante con dei punti di forza differenti, però forti quasi alla stessa maniera. Allora, prima di parlare dell'altra squadra di Montecatini, Gemma, contro la quale voi probabilmente avete giocato la peggior partita dell'anno, ma questo è un altro discorso, tra l'altro l'affronterete tra due settimane, la prossima in casa dopo Megna. Ci sono due messaggi per te da parte di un tifoso presumo libertassino, li uniamo ovviamente. Volevo chiedere all'Oschi un suo parere su Diego Terenzi. Nuovo acquisto Libertas. No, sì, lo so, però nel senso lo conosco veramente pochissimo, l'ho visto per la prima volta contro Legnano l'anno scorso e non lo conosco nel senso, secondo me alla Libertas manca quel saccaggi che io ho giocato, cioè col quale sono nato praticamente perché ci giocai a Treviso da bambino e è un ragazzo che ha un talento incredibile e secondo me i suoi problemi fisici non lo stanno limitando, non capisco perché lo stiamo limitando, perché è comunque un giocatore ordinato, un tiratore e secondo me gli sta mancando tanto lui alla Libertas e questo acquisto è come parlavamo prima di quello di Irons o come posso essere io per la mia squadra. Io credo che Campori, Ferraro, lo stesso Chiarini, se gli avessero detto rientra l'Oschi, io per primo non sarei stato felice, come adesso credo che Lucarelli arriva un altro, non puoi dire wow. Perché poi si dice sempre quando si parla di queste cose, i minuti sono 200. Esatto, quindi se domani mi dicono guarda arriva Michael Jordan in squadra tua, credo che anche il più scarso dica no, non sono contento, sarebbe ipocrita, quindi deve essere bravo sia questo ragazzo che la squadra a non rompere questi equilibri che spesso in questo momento sono difficili da capire, però sicuramente è un giocatore importante, la Libertas è una squadra esperta per metterlo a suo agio, però non lo conosco così bene da giudicarlo. Sicuramente era molto bravo il padre che ha giocato in Serie A con la Scavolini e tu lo conosci Terenzi? Sì, sì, ci ho giocato lo scorso anno forse contro. L'anno prima quando ero anche assistente di Bassi mi è capitato di incrociare un ragazzo intanto umanamente anche super e che può integrare, magari rendere più pericolosa a livello offensivo la squadra. Probabilmente mi immagino che l'innesso sia stato anche in funzione di quella che possa essere allungare il roster per quanto riguarda un'ottica di playoff, anche perché è una squadra sicuramente fortissima, però che magari per età o per acciacchi ha già dato modo di far pensare che qualcosina a livello della panchina in più dovesse venire. Quindi mi immagino sia stata un'occasione per entrambi e la logica dell'innesto sia stata più che altro questa. E poi c'è un messaggio, tu lo conosci Terenzi? L'ho visto un po' l'anno scorso, ma sicuramente io sono d'accordo con Luca, è un innesto che messo negli equilibri e nelle gerarchie della Libertas può sicuramente dare una mano, è sicuramente un giocatore di categoria, però la Libertas è un'altra squadra molto forte, attrezzata, che come diceva giustamente Federico gioca al proprio ritmo, impone il proprio ritmo, quindi è diversa dalle altre che si sono state nominate finora, ma è veramente compatta e sono un ottimo gruppo, anche loro con tantissime frecce nella loro faredra, perciò sarà un innesto che sarà in equilibrio con gli altri e darà una mano. Poi c'è un messaggio, buonasera, se le due leibordesi arrivassero prima e seconda non si scontrerebbero ai playoff, no, perché sarebbero inserite, se non vado errato, in tabelloni diversi, perché ricordiamolo, perché qua con le formule bisogna stare sempre attenti, poi nei playoff si incroceranno le squadre del girone A con quelle del girone B e la prima e la seconda vanno in due tabelloni distinti, quindi per avere un derby nel playoff bisogna che le due squadre arrivino prima e terza o seconda e quarta, ma con la classifica attuale è praticamente impossibile. Andiamo adesso a parlare dell'altra squadra di Montecatini, la Gemma, che era partita molto molto bene nella trasferta di Piacenza, tra l'altro dove Marco Del Rio aveva allenato lo scorso anno, poi si è inceppata e ha portato a casa i due punti Piacenza. Gemma, nel giorno di torno ha già perso cinque volte, però una squadra che adesso ha ritrovato l'organico al completo e è rientrato anche a Gelucci, sicuramente da prendere con le molle, al di là della sconfitta di Piacenza, Federico. Sì, io l'ho subita molto perché non conosco l'allenatore, però sì, non è stato un signore contro di me, mi ricordo la scena che fece così in faccia a Marco, io ero nell'angolo sul meno 10, la partita era già finita e continuava, sì, da fuori l'ho sentita abbastanza, quindi sarà una partita che io aspettavo di giocare, però a prescindere dal livello umano, secondo me è un allenatore che ha messo la sua impronta su questa squadra perché gioca bene, per me è Passoni, che non l'avevo mai conosciuto, l'ho visto a Firenze due anni fa per la prima volta, è un giocatore fortissimo, pulito, ordinato e anche Mastrangelo, Savoldelli ha talento, quindi secondo me è una squadra veramente forte, probabilmente ha avuto un calo, non lo so, di pizzo ha giocato con me a Rieti, è un ragazzo sicuramente particolare, un po' molle, però mi piace tantissimo, cioè se riuscisse ad essere un po' più aggressivo veramente potrebbe fare un salto di qualità, quindi sarà, secondo me, una, credo arriveranno loro quarti perché se lo meritano e a livello di organico sono forti e sarà una bella partita, le prossime due Omenia, Gemma, poi a Piombino, diciamo Omenia giocata di sabato, esatto, contro Omenia, comunque è un'altra squadra tosta, sarà un finale di stagione bello, contando che le ultime due poi saranno Irons e Libertas, sarebbe bellissimo se non contassero niente, però non sarà così, mai porre i limiti alla provvedenza, esatto, mai porre i limiti. Per quanto riguarda Gemma, 14 di pizzo con 4 rimbalzi, 10 di Pirani che sta facendo un ottimo campionato, invece ha un po' steccato Mazzantini, soltanto 3 punti. Al di là della sconfitta di Piacenza, Francesco Gemma, una squadra da tenere d'occhio, anche se con questa frenata rischia di perdere il quarto posto perché adesso ha soltanto 2 punti su un vasto trappello di inseguiti di ceri. Vediamo anche la classifica, così ce ne rendiamo conto, Francesco. Sì, la classifica lì nel quarto posto soprattutto si sta accorciando sensibilmente, sta salendo anche Piombino. Gemma, se non sbaglio, di recente è venuta a giocare contro la Libertas. Sì, nel frasettimanale, per San Valentino. Ah ok, ecco perché ero libero, capito? Allora sì, l'ho vista, è una squadra molto molto solida, devo dire. Loro anche hanno degli ottimi giocatori e hanno dato filo da torcere, fino alla fine non hanno mai mollato e li ho visti veramente come una squadra di livello rispetto a tutte le altre che ho potuto vedere. Così come la stessa sensazione mi ha dato Piombino, di una squadra che può dar fastidio a tutti i livelli, con chiunque. Infatti credo che quella per la Libertasi in casa sia stata una vittoria molto molto importante perché sono squadre toste e batterle non è facile. È chiaro che adesso si devono combattere le prime posizioni, quelle che contano e le ultime partite spero anch'io che non continuo, ma non si, penso proprio di sì che sarà un finale di campionato abbastanza vivo. Tra l'altro Piombino dopo aver perso soltanto a supplementare in formazione ampiamente rimaneggiata lunedì a Sant'Antimo ha battuto 89 a 82 crema. L'ha vinta, e questa è quasi un po' una notizia, se ci sente Damiano Cagnazzo si arrabbia, però l'ha vinta in difesa perché nel terzo quarto ha fatto 27 punti che con quella batteria di tiratori ci sta anche, ma soprattutto ne ha subiti soltanto 12. Metterà allenamento punitivo, hanno difeso troppo e quindi a parte gli scherzi è una squadra veramente costruita con un criterio ben preciso e veramente pericolosissima per quanto riguarda la parte offensiva. Quindi hanno fatto secondo me per budget e per caratteristiche di giocatori un lavoro eccezionale, anche il rinserimento di Venucci comunque è stato assorbito nella maniera corretta e quindi secondo me è stata un po' una scivolata la sconfitta, ma stanno facendo veramente veramente bene. Stanno facendo veramente molto bene. E poi Sant'Antimo mancava Almanzi che non c'era neanche contro Chema, mancava Venucci, hanno ancora Turel che non è ancora al top, si faceva male proprio contro la Piedra. Una squadra di carattere è convinta soprattutto in tutti gli elementi a giocare in quel determinato modo lì e quello fa la differenza tanto, quando una squadra è convinta, come avevo detto prima, di giocare in un determinato modo, ci credono tutti, l'ambiente sostiene sia i giocatori sia staff, è chiaro che tutta questa componente di elementi porta a un risultato, anche se è una squadra che magari a mio avviso aveva fatto anche tanto bene rispetto a quello che erano le loro possibilità all'inizio. Poi chiaramente entrano in fiducia e alla fine è giusto anche che i risultati e lo sforzo vengano poi premiati. Tra l'altro Cagnazza ha portato la bellezza di 5 uomini in doppia cifra, 15 di Piccone, 14 di Berra, 10 di Venucci, 12 di Desardo, 11 di Azzaro. Federico, Piombino è la classica squadra che nei playoff non vorrei trovare mai. No, io sono d'accordo con lui perché è proprio questo il concetto, che tutti sono sulla stessa linea, se uno vede Piombino dice adesso esagero, però sembra la sassa di Sacchetti con i fratelli Diner, corri e tira e mi ricordo quando ero in stampa, no, ho giocato contro Piombino, abbiamo giocato, io ero infortunato e scherzando, Piccone ha fatto 25 e Cagnazza uscendo, io ci giocai contro a Iesi quando lui diceva Davis, questo tiratore mostruoso in A2, faceva 40 punti di partita e mi disse se vieni da me ti faccio fare 40 tiri a 3 punti tutte le domeniche e scherzando, lui è così e sono tutti lineati perché se probabilmente Piccone giocasse con noi al secondo tiro lo mandereste quel paese, in realtà loro giocano così, anche i lunghi sanno che devono fare quello, Berra vive sugli errori, sui rimbalzi, su questi shortroll suoi e sono tutti lineati, pubblico, allenatore e ovviamente se loro fanno la partita che fanno a canestro o possono battere veramente chiunque, poi ovviamente io credo che i campionati si vincano veramente difendendo, l'anno scorso Vigevano è una squadra difensivamente tostissima, nonostante io non ami la difesa ma giocherei anch'io a vincere bene a 100 punti, però purtroppo si vincono in difesa e loro obiettivamente arrivare tanto avanti in questo modo di giocare secondo me sarà dura, però sono un'ottima squadra. Allora noi ci fermiamo lì nella regia, poi scendiamo di categoria, andiamo a parlare di B Interregionale Prima e poi di Serie C che ripartiranno entrambi i campionati lunedì. Linea alla regia, torniamo subito. Il sorriso, il sorriso amico a fianco del cittadino. Hai avuto un sinistro? Puoi far tornare la tua auto come nuova? Puoi farlo senza alcuna preoccupazione, basta rivolgersi alla carrozzeria Marsili. I titolari Stefano e Marco penseranno a tutto facendoti risparmiare tempo e denaro. Carrosseria Marsili, a Livorno, il via Cessioni 359, telefono 0586 40 96 40. Farmacia Farneti, la tua farmacia di riferimento a Livorno. La farmacia Farneti ti è sempre più vicina attraverso la consegna a domicilio gratuita a Livorno. Vieni a scoprire tutti i nostri servizi e reparto dedicato agli alimenti senza glutine. La farmacia Farneti è centro servizi ed eccellenza di telecardiologia dove potrai effettuare elettrocardiogrammi e oltre cardiace pressori anche a domicilio. Ordine acquisti sono possibili mediante l'utilizzo dell'app Farmacia Farneti, disponibile su Apple Store e Google Play. Farmacia Farneti, per starti sempre più vicino. Livorno 24 Livorno 24? Livorno 24 Nuovo, gratuito, interattivo, indipendente Il giornale online che ci appartiene Livorno 24 www.livorno24.com Più o meno, consulenza energetica, agenzia leader nel settore luce e gas, operiamo volture, subentri, cambio fornitore e telefonia. Chiama Marco per una consulenza gratuita. Bene, rientriamo, allora andiamo subito a vedere quello che ci prospetta la Serie B interregionale, andiamo a vedere la poll, il play-in gold con il nostro spot. Abbiamo? Vabbè, se no lo diamo dopo, dai, te lo stesso. Eccolo qua. Allora, questo è il play-in gold, qui mi prendo 20 secondi per parlare della formula, questo servirà per definire la griglia dei play-off di queste squadre che partono con questi punti, perché sono quelli che si portano dietro dalla prima fase, 6 andranno ai play-off. Per cui ceci ne ho 10, Empoli, Paviotto, Saronno, Idem, Casale 6, Virtussiana 4, e qua una sorpresa perché Virtussiana è stata quasi sempre in testa al vostro girone, San Minato 2 e Gazzata 2. Luca, voi partite messi benino perché avete 8 punti, nell'est avete chiuso nelle zone alte la prima fase, qua c'è un po' l'incognita delle squadre del nord. Se tu conoscerai... Sì, ora siamo informati, diciamo, come penso abbiano fatto anche loro verso di noi. Chiaramente una formula molto particolare, diciamo sì, che poi ha portato a, per esempio, come hai detto te Virtussiana, aver comunque dominato, diciamo, soprattutto nella seconda parte del girone di ritorno, la classifica e poi trovarsi a 4 punti. Quindi era... E siamo arrivati all'ultima giornata dove, anche per quanto riguarda le seconde 4, perché c'è stato anche il play in silver, e per quanto riguarda, per esempio, San Minato, che è passata vincendo l'ultima giornata con Luca, a un girone dove tutte le partite diventavano importanti. Però forse, forse, corsendo di poi, forse, forse era meglio andare a riferire nel silver se ti portavi tanti punti. Eh sai, il discorso è quello lì, perché se passi con 12 punti... Parlava con Quarrata, con Alberto Confoni la scorsa settimana, forse, forse, se noi riprendiamo la classifica dalla quale si parte del play in gold, insomma, se parti a due punti diventa difficile. Sì, ora in questo caso, sì, potevano succedere tantissime, veramente, tantissimi incroci, tantissime ipotesi, dove magari la classifica poteva essere molto corta, oppure ancora più distaccata, anche in base ai risultati del girone delle altre squadre. Quindi poteva veramente... Anche Gazzada è entrata all'ultima partita vincendo con Gallarate, a sorpresa. Perché comunque, dal mio punto di vista, sai, per me è da vincerle tutte, cioè non starei a fare tanti punti... Anche perché poi un conto è arrivare primo, un conto è arrivare sesto. No, e poi, per esempio, comunque nel girone silver bisogna arrivare a un primo e secondi. Esatto, lo vediamo. Nel girone gold bisogna arrivare nelle prime sei. Quindi, diciamo, fare troppi conti, come ho detto anche ai ragazzi, al di fuori dei nostri obiettivi, che erano comunque altri, era differente. Cioè, nel nostro obiettivo era comunque quello di crescere partita dopo partita e comunque entrare nelle prime otto. Detto questo, secondo me, troppi conti non fanno mai bene se uno vuole arrivare poi a vincere il campionato. C'è un messaggio, sono un tifoso di Empoli, volevo chiedere a Luca, che sei tu il coach, se si accontenterebbe di arrivare terzo. Ma, ora vuole sapere chi è, poi mi dà il numero che li conosco. La cancellà. La cancellà. No, no, allora, io non si accontenta perché bisogna essere esigenti sempre verso noi stessi. Sicuramente con la società avevamo indirizzato l'annata per concretizzare quello che è stato il lavoro e la programmazione fatta negli anni precedenti. in più, magari resistendo, diciamo, a un anno molto difficile come l'anno scorso nell'entrare, diciamo, nella prima fascia di questo campionato. Addirittura siamo arrivati nelle prime quattro, quindi adesso ci sarà la bellezza. Adesso c'è da divertirsi. E ora c'è la bellezza e il divertimento di scontrarci con squadre. Comunque noi abbiamo visto in fase adesso di preparazione, secondo me, tecnicamente molto più forti, cioè più forti sicuramente del nostro girone. probabilmente dalla nostra abbiamo quell'intensità difensiva, soprattutto che magari non ho visto e non ho rivisto nei filmati comunque delle altre partite. È chiaro che poi la verità si saprà dopo un paio di giornate, quando giocheremo contro, quanto più uno stile o l'altro prevalga in campo. Comunque a questo punto ci si accontenta solamente quando chi si accontenta è perduto, quindi io altro che terzo punto. 8 partite da giocare tutte in un fiato. 8 partite tutte in un fiato senza fare nessun tipo di conto. Fra l'altro Federico ci sono realtà importanti, soprattutto a Pavia, una squadra che ha grande tradizione. Sì, io non seguo molto, ma perché non c'è neanche modo di seguirlo, perché ormai è un casino, non si capisce, ci sono troppe squadre. Però Pavia, mi raccontavi i nomi prima, sono giocatori che hanno giocato l'anno scorso nella nostra categoria, ma la stessa Empoli, che ha Guido Rosselli, mi vengono in mente Ferrara con Drigo, ci sono tantissime realtà in Serie B che stanno investendo. Secondo me c'è rispetto agli anni passati che c'era molto più lasciarsi andare nelle Serie Minori, adesso c'è voglia di tornare a competere ad alti livelli, è bello così. Pavia, ma in Casal Monferrato, credo, la Saccecina che ha Casella, giusto? No, è Prato. Però c'è per esempio Turini. Abrumi, Turini. No, è stata Cecina. Esatto. Quindi, no, è sicuramente una Serie B che sta puntando a tante squadre che stanno puntando al piano di sopra, a vincere. Francesco, a te invece ti chiedo dopo lo spottino e la classifica del play in silver qualcosa proprio su questo, chiamiamolo così, raggruppamento della seconda fase. Prego lo spottino e poi il play in silver, Ale. I risultati della Serie B interregionale sono offerti da Time Out Sport Lab. Arrivano, eh? Eccolo qua. No, questo è un brutto ceffo. Abbiamo? Eccoli qua. Allora, qui si parte con Dertone e Quarrata, 8, Lucca, idem, Spezza, Gallarate, Borgovanero, 6, Varese, 4, Arezzo, 2. Francesco, chiaramente chi ha 8 punti è avvantaggiato, dicevamo prima, Lucca e Quarrata hanno fallito l'obiettivo play in gold però con 8 punti si trovano ben messe nella corsa al playoff perché in questo girone soltanto le prime due andranno appunto al playoff. E il problema è cosa fanno le altre? Basta, finiscono. Sono in vacanza. Sono in vacanza, sono arrivati alle prime due. Questo silver è un girone decisamente diverso con squadre anche molto giovani ci sono Dertora. Dertora. Dertora delle under 19 sì, e anche Borgo Manero mi pare. Borgo Manero, sì. E quindi sono squadre diverse che in questo momento della stagione poi punteranno essenzialmente alle categorie giovanili insomma. Comunque non sarà facile batterle perché le squadre giovani possono essere sempre delle mine vacanti e qualsiasi è qualcosa. Ci spererei. Qualsiasi qualsiasi ragazzo magari che è abitato a giocare un po' di meno nella categoria giovanile può esplodere in qualsiasi momento in qualsiasi partito. Detto questo sono molto felice per per San Mignato in realtà per coach Martelloni perché credo che stia facendo un percorso clamoroso di anno in anno si assesta sempre a un livello un po' più alto e con grande con grande merito. non che non sia felice anche per te ora questa me l'avevo già segnata proprio San Mignato mi allena a Empoli però andare subito in tutti e due i derby quest'anno mi ricordo anche due l'anno scorso quindi io per un po' sono sparato quando veniva il coach Marchini che è il vice di Irons che allo scorso anno era a San Mignato arrivava sempre il messaggio tanto il derby lo vince a Empoli hai 4-4 nei derby si si ora infatti l'anno prossimo manderò un altro se dovessi rimanere a Empoli magari li puoi trovare nei playoff però esatto no no ma per esempio ora guardando la classifica del play in silver a Valenza quello anche ti avevo detto prima perché ora nonostante quello che abbia detto coach Tonfoni ma c'è tre squadre a 8 tre squadre a 6 arrivare nelle prime due no no ma se ne parco coach Tonfoni ha detto io avrei venuto a fare il play in gold ecco no no ok perché insomma lì è veramente complessa è sempre presente 6 squadre che è come essere come essere alla pari anche perché li passano in 2 esatto passano in 2 da noi 6 da voi con 12 bastano 12 punti dai 12-14 12-14 le partite per le prime sono già è difficilissimo le ultime due squadre partono a 2 punti insomma partono con un minimo meno 6 quindi un minimo 3 partite loro dovrebbero vincere sempre le squadre soprafare dei disastri esatto è una classifica ecco totalmente opposta rispetto a quelle play in silver allora vediamo anche il terzo raggruppamento della B interregionale quello che riguarda la salvezza anche qua andiamo con lo spontino la classifica della serie B interregionale è offerta da Mobilificio Paretti arridamento di interni eccolo qua allora qui si gioca per la salvezza vedete Legnaia Oleggio Collegno e Serravalle 8 punti poi Savignano Sestri Ponente non Sestri Levante Sestri Ponenti 6 Castelfiorentino e Piemonte 2 qui Castelfiorentino che ha cambiato allenatore perché Walter Angiolini si è dimesso dimostrandosi persona di razza quale sapevamo essere ha un piede e mezzo in Serie C perché insomma qui le ultime due retrocedono direttamente e poi le altre le ultime due mi parli se non vado a mirato vanno al play out qui è veramente veramente un girone infernale questo qui è veramente un girone infernale la spada di Damocle e dei punti che ti porti dietro è molto molto pesante soprattutto anche ti parlo dal punto di vista anche organizzativo perché questo è un campionato è una sci gold diciamo di più alto livello e non sempre trovi squadre anche di professionisti anzi spesso non ci sono squadre di totalmente giocatori professionisti anche delle trasferte molto lunghe come ora andremo a fare possono essere condizionanti mi immagino guarda per esempio il mio amico Riccardo Zanardo con l'Egnaia si è giocato l'ultima partita la possibilità di entrare nel play in silver dopo un'annata pazzesca a livello di sfortuna e non infortuni una distorsione alla caviglia o un'influenza c'è fratture infortuni molto lunghi che alla fine l'ha portato poi a doversi salvare in un girono infernale come questo non male con otto punti però comunque per le squadre sotto diventa veramente veramente difficile riuscire a salvarsi sono partite queste Francesco che vanno giocate con l'intensità ogni partita di playoff perché poi sostanzialmente portano ai playoff ma non puoi permetterti in un gironcino così piccolo così breve fatto di otto partite con queste classifiche di sbagliare alcunché a maggior ragione se parti con 2, 4 e anche 6 punti è chiaro che bisogna giocarle tutte come se fossero delle finali secche perché non si può perdere nulla per strada poi una cosa che magari diremo anche dopo riguarda anche la Serie C perciò sia quelle che si possono salvare direttamente che quelle che magari possono andare play out cioè togliersi dalla zona dalle ultime due posizioni definitivamente perché comunque fra 2 e 6 punti sono due vittorie perciò essendo che si inizia tutti è un nuovo campionato come accade anche in Serie C spero mi aggancio un po' al discorso che faceva Luca per per esempio le mie Firenze è una cosa veramente spiacevole che si trovi a questo punto non dimentichiamo che il primo infortuna l'ha avuto forse in pre-campionato in amichevole sia a Castelfiorentino se non sbaglio è veramente un'annata assurda per una squadra ben allenata un roster di livello che invece si trova adesso a combattere fino alla fine anche se partendo con 8 punti insomma ma ogni partita appunto sarà importante gli auguro insomma il meglio salutiamo coach Riccardo Zanato che ho sentito oggi è sempre il nostro assiduo ascoltatore ti aspettiamo prossimamente qua c'è una domanda lo sapevo altrimenti non avrei detto guarda che ci seguono tutti lo sai solo tu alleni gli altri ci seguono o in diretta o quando carichiamo la trasmissione su Youtube c'è una domanda per te dato che ti metti sempre in curva nord quando gioca la PL qual è il tuo pensiero della sud e quanto può incidere sull'economia della partita questo è evidentemente un tifoso PL credo di conoscerlo pure se è lui per non fare pubblicità saluto gli amici del Madiba dove si mangia bene tanto perché per non fare pubblicità io lo chiamo così niente l'ho detto anche prima l'impatto è favoloso ma qui in realtà la curva della PL l'abbiamo detto ampiamente è sicuramente di primissimo livello e tutto il pubblico si casa durante le partite ed è una bella sensazione sicuramente il derby per esempio c'erano non so se 9.000 8.000 persone anche quello è un colpo d'occhio incredibile comunque tutta la città di Livorno che vive di pallacanestro e di tanti altri sport in realtà e appunto scherzo sempre con il mio amico Federico che saluto ci vediamo praticamente ogni giorno al bar qua si parla di pallacanestro e quindi è una cosa che onestamente mi è successa in passato soltanto a Bologna per il resto delle città dove sono stato e dove ho vissuto questa passione non l'ho mai trovata è chiaro che Livorno è una città un po' più piccola con altre in questo momento con altre connotazioni però veramente vivere qui e vivere di pallacanestro è per me una cosa fantastica è la tua città mi sta divertendo tanto com'è? è diventata la tua città no la mia città è sempre è sempre il gioco a Labria non si scherzo ci ha provato ci ha provato niente c'è un parlo demografico è molto simile molto simile siamo sul mare insomma mi trovo molto bene ecco quello si bene adesso andiamo alla serie C partiamo con le varie collocazioni delle squadre nelle varie fasi perché anche qua la formula è tutta da spiegare andiamo con il nostro spottino e poi il quadro delle varie fasi la classifica della serie B no parliamo della serie C vabbè capita non ti preoccupare la classifica della serie C girone A è offerta dal gruppo Visbederi innovando oggi per la salute di domani allora mettiamola a video l'abbiamo eccola qua allora qui si gioca per definire la griglia dei playoff perché poi ci sarà una promossa si parte con la fase che poi porterà a comporre la griglia dei playoff con Menzana a quota 10 Costone 8 Prato Sibre gruppo F6 così come San Vincenzo e Pino 4 Sansepolcro Agliana e Sancat Francesco tu queste squadre le conosci perché con molte di queste ci hai giocato contro certo quel derby di Siena da non perdere sarà sicuramente una gran giornata credo che giochino al palaestra sì Siena adesso sta facendo la serie C però sicuramente nei prossimi anni si rivedrà in categorie più importanti ecco io quest'anno ho giocato io no per fortuna non gioco abbiamo giocato contro Menzana a Menzana ci è mancato niente di portarla a casa l'andata in realtà è stata una partita abbastanza triste perché abbiamo avuto infortuni siamo stati in vantaggio fino alla fine praticamente per 39 minuti e 50 secondi una preditazione dei Tognazzi sì sì però chiaramente loro sono una squadra strutturata per vincere sono migliorati molto durante l'annata sono cresciuti sono messi bene e adesso con Costone è un'altra squadra attrezzata anche quella per la Serie C perciò si divertiranno parecchio in questa seconda fase vediamo la composizione di questo gironcino qui chiaramente le favorite sono Luca corregimi se sbaldo le due di Siena e Prato Prato che ha messo dentro un giocatore importante come Francesco Forti parte da quota 6 a tanti giocatori esperti come Salvadori Artioli Casella che lo scorso anno ha fatto molto bene con te anche Prato adesso magari si parla delle due di Siena ma secondo te Prato è una squadra che può veramente ambire arrivare al primo posto in questo gironcino e poi giocarsi tutto anche se ora chiaramente io sono di parte perché comunque con Andrea ho un ottimo rapporto ma credo che sia una squadra sicuramente che può arrivare in cima e Costone probabilmente per composizione di roster potrebbe essere ancora ancora più forte ha comunque quell'esperienza o qualcosa in più a livello magari fisico di intensità che si può rivelare decisivo Menzana ha fatto veramente particolarmente bene e non era così scontato in questo girone qua cioè io non ci avrei messo la mano sul fuoco all'inizio invece Menzana è la squadra fra tutte le partecipanti alla Serie C che ha chiuso con il miglior record sì infatti è stata veramente una sorpresa anche vista appunto la competitività degli altri roster comunque secondo me per arrivare alla fine Prato e Costone hanno qualcosa sicuramente in più Federico senza volerti coinvolgere in questo ragionamento sulle squadre partecipanti a questa fase ti porto un particolare a Siena quando gioca la Menzana ci sono più di mille persone in Serie C questo per dire cosa che comunque in Toscana il basket è molto 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 sentito lo dice il successo di questa trasmissione ma lo dicono soprattutto i dati che portano mille persone in una città piccola come Siena a vedere una partita di Serie C assolutamente ma mi raccontavano che anche la PL i primi anni in Serie C portava un sacco di persone sicuramente è una regione che io nella mia carriera hanno girato tanto ho giocato Brescia Piacenza Scafati Trieste in Toscana non avevo mai giocato se non da bambino nei torni di gemellaggio San Giovanni Valdarno Ghezzano però sì è sicuramente una città una regione che è innamorata di questo sport adesso fa strano pensare leggere Menzana Siena e vedere Serie C però non mi metto in mezzo a quello che è successo nel passato però sarebbe bello insomma a rivedere una squadra come Siena dove si dispette insomma dove è sempre stata C'è un altro messaggio secondo me in questo gironcino penso si riferisca a quello di cui stavamo parlando le più forti sono le due senesi e Prato penso siano tutti d'accordo su questo Sì sì penso sia abbastanza oggettivo sicuramente è così e se le proveranno a staccare il passo per salire tutte queste tre che hanno un roster lungo profondo di qualità sono squadre oggettivamente ben allenate è una cosa per me abbastanza logica per quanto riguarda questa regione si nota che la Serie B ha le prime 4 e sono tutte toscane e ne potrebbe avere le prime 5 se andiamo a vedere questo per dire che anche il livello e la qualità sta salendo non solo come passione quindi della gente che va a sostenere le proprie squadre ma sta salendo di livello secondo me sotto tanti aspetti in tante piazze Empoli Livorno sono tutti e due Libertas e PL Montecatini sono lì e anche nei campionati di binte regionale si fanno rispettare Allora andiamo con gli altri due gironcini per chiudere l'argomento così un po' di spazio lo concediamo a Francesco e al Don Bosco perché due parole le merita questa società da sempre una delle più brave del crescere giovani giocatori ma anche allenatori Luca è l'ennesimo prodotto del vivaio della palacanessa Don Bosco vediamo prima la composizione dei gironi con il nostro spottino Ale La classifica della serie C è offerta da Cosmo Care Servizi Sociosanitari Assistenza Domiciliare in Toscana Eccola qua questo è il primo girone vedete US Livorno 10 Fides 8 Bottegone 6 Montevarchi 6 Fucecchio Cuspisa 2 ricordiamo che qui si salvano Francesco con le ultime modifiche a regolamento se non mi sbaglio le prime 4 le prime 3 le prime 3 se non sbaglio comunque è un regolamento in divenire ora un velocissimo passaggio perché poi voglio parlare anche del Don Bosco qua l'US Livorno a quota 10 e Fides a quota 8 partono avvantaggiate no Francesco tu Fides sì onestamente non mi aspettavo che queste due squadre fossero da quest'altra parte Fides ha avuto tanti infortuni sì infatti questo è da dire Fides ha avuto tanti infortuni l'altra Livorno ha giocato comunque in un girone che pare sia molto forte quindi un po' queste cose mi hanno sorpreso Fides purtroppo si sa che per esempio Simone Orsini è rientrato e anche Ciano sono rientrati da gennaio in poi con due infortuni molto lunghi quindi era un po' in divenire il loro roster sicuramente sono due squadre molto attrezzate e molto forti perciò mi aspetto che si salvino subito senza troppi patenmi ecco concordi Luca? sì sì una squadra sicuramente come il roster che non doveva fare questa tipologia di campionato che è stata sfortunata secondo me l'altra squadra che non ho seguito così assiduamente però comunque ho seguito e Montevarchi potrebbe essere una squadra che in questa in questa classifica potrebbe dare del filo da torcere anche anche alle squadre sopra che parte mi sembra da sei punti ho visto e quindi secondo me c'è da tenere d'occhio anche Montevarchi vediamo l'altro girone che è quello nel quale c'è anche il Don Bosco andiamo con con la grafica arriva subito tra l'altro va detto le classifiche della serie C sono offerte da gruppo Vismederi innovando oggi per la salute di domani tra l'altro va detto che queste classifiche a primo impatto portano un po' fuori strada perché c'è da dire che in questo girone per esempio le due squadre che arrivano le tre squadre che arrivano al girone quello dove era il Don Bosco giocheranno due partite meno quindi Pontedera otto Don Bosco otto ok va bene però giocheranno sei partite invece delle otto che giocheranno Val di Sieve Prato Alto Pascio e Sinegi detto questo è chiaro che qui chi sta male è Carrara ovviamente però prima di entrare nel merito di questo girone due parole che voglio dire sul Don Bosco no Francesco Don Bosco un nome una garanzia a livello giovanile una società che lancia sempre tantissimi giovani che fa crescere i giocatori ma fa crescere anche le persone e nello sport di oggi non è una cosa così semplice da unire no no non è semplice oggi come non è stato nel passato sicuramente il Don Bosco è un marchio cioè esiste da non so 30-40 anni è sempre stato una società che ha un certo tipo di lavoro alle spalle lavoro quotidiano che poi ovviamente porta a determinati risultati non è facile in questo momento in Italia credo in generale trovare delle società che si occupano esclusivamente di settore giovanile esclusivamente di ragazzi che più o meno vengono dal territorio comunque dalla città di Livorno e da zone molto vicine a Livorno con pochissime aggiunte di foresteria questa è una è una cosa che non si fa non si fa tanto in questo momento ci sono delle realtà decisamente diverse mentre il Don Bosco rimane costante è una società solida molto solida e anche che crede a dei valori e delle prospettive sempre uguali nel tempo è chiaro che la pallaganessa un po' cambia ma quando si dice avere una società forte alle spalle è proprio quello che penso stando lì vivendo da dentro questa realtà che insomma è un orgoglio innanzitutto essere là tra l'altro i risultati arrivano perché comunque voi siete stati abbastanza vicini ad arrivare tra le prime quattro che sarebbe stato un risultato sorprendente avete perso qualche partita involata di troppo magari adesso cercherete la salvezza in questa seconda fase poi c'è anche ci sono i bei risultati dell'anno 17 d'eccellenza che sta facendo l'interzona per arrivare alle finali nazionali Luca tu dal Don Bosco sei uscito sei cresciuto in quella realtà che ricordi hai della società di Via Aglianti no ma sicuramente come ha detto lui Don Bosco è un marchio lo conferma il fatto che comunque la linea guida e la coerenza e la struttura siano rimaste le stesse nonostante i tempi siano sempre meno 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 facili poi un conto è parlare riempirsi la bocca di facciamo giocare giovani magari è un conto puoi farlo per dar vero come facciamo noi come facciamo noi ad Empoli cioè alla fine un conto è dirlo un conto è farlo quindi questa coerenza e questa struttura sicuramente è riconosciuta da tutti come è riconosciuto il lavoro che possiamo aver fatto noi ad Empoli è sempre più difficile per esempio Borgo Manero mi è venuto in mente prima un'altra società che fa giocare anche i loro giovani Alba lo faceva Alba però bisogna andare a prendere società comunque di un livello di un livello comunque anche anche alto ecco che hanno alle spalle anche sponsor situazioni importanti invece con tanti sacrifici comunque la realtà di Empoli la realtà comunque di Livorno perché i sacrifici sono veramente tanti portano avanti questa ideologia ed è ed è veramente una cosa sono delle perle ormai rare in un mondo sempre più complesso ecco da livello sportivo economico certo Federico che trovare società in generale che danno spazio ai giovani non è semplice ma è importante ormai no io sono nato con la Benetton e mi ricordo che noi dal Don Bosco prendiamo Saccagi Renzi ma era nel senso erano anni incredibili il storio giovanile cioè mi ricordo c'era un livello altissimo c'era la mia squadra quando vincemmo mi ricordo due o tre squadre di fila c'era De Nicolao Gentile Wojciechowski Renzi Rullo Saccagi Martinoni una squadra una roba allucinante Loschi Loschi no ma era era stupendo e mi ricordo c'era il torneo Zonatta non so se adesso esiste ancora ed era bellissimo era ci sono nato questa passione mi ricordo entravo alle due facevo allenamento con gli under 15 con la pasta di mia nonna in corpo poi alle 5 andavo con quegli altri alle 7 andavo con la serie A pigliavo un sacco di schiafi da Mordente e Soragna finivo alle 9 di sera distrutto dalla vita però le giovanili sono belle insomma è bello che il Don Bosco come altre realtà come la Virtus Bologna credo io ci credano ancora perché ormai secondo me viene un po' tutto finalizzato al risultato cioè non c'è più il giovane cresciamolo ma facciamo un anno vediamo come va e poi tutto tutto via prende magari un passaportato no la cosa tra le rete brutte è quella che lo raccontavo io spesso cioè l'anno di Verona finivo la Serie 2 ho fatto un bel campionato l'anno dopo mi chiamarono squadre sì vabbè ma no prendi eh quanto prendi eh no prendiamo quell'altro facciamo un anno poi vediamo invece non c'erano più tre anni di contratto si cresce ah in tre anni vinciamo la progettualità un po' manca e le giovanili sono quello che invece è bello perché non c'è i soldi in mezzo ti devi divertire e far crescere un giocatore è bello rivediamo il gironcino nel quale è inserita la Toscana Food e Don Bosco Alessandro così facciamo anche due parole su questo girone Francesco no è l'altro girone questo l'abbiamo già parlato con le due di Livorno che qui sono nettamente favoriti US e Fides eccolo qua vedete Ponte d'Era e Don Bosco con otto punti Val di Sieve Prato e Alto Pascio quarto Carrara e Synergy due va detto che Francesco voi giocherete sei partite anziché le otto che giocheranno le squadre che avvengono dall'altro girone in quest'ottica sarà fondamentale già partire bene nella prossima partita che si gioca sabato ricordiamolo alle 19 contro Union no Francesco veramente voi cercate di agganciare uno dei primi tre posti dobbiamo assolutamente quindi sì giocheremo appunto due partite in meno andate e ritorno in meno avremo Prato Val di Sieve Alto Pascio sicuramente sono squadre appunto che vengono dall'altro girone quindi conosciamo poco però tutti dicono che l'altro girone sia di un livello buono comunque superiore al nostro quello precedente dobbiamo provare appunto a giocare ogni partita come se fosse la più importante quello che bene o male professiamo con tutti i gruppi con tutti i ragazzi perciò sarà da vincere da provare a fare le prestazioni migliori possibili detto questo noi giochiamo tutto l'anno con questo atteggiamento dobbiamo solo appunto essendo una squadra totalmente di giovani e dobbiamo solo pensare a migliorare e ora vivere questo momento è una bella tappa per loro perché cominciano ad approcciarsi anche un po' al mondo senior ma l'importanza delle partite proprio eh sì l'abbiamo affrontata già in passato in questa stagione regolare e appunto abbiamo avuto partite fondamentali per poter provare a rimanere agganciati al gironcino in alto o comunque oppure scontri diretti importanti perché poi i punti appunto li abbiamo portati dietro quindi questa è anche una fase per questi ragazzi molto importante speriamo che in futuro gli serva aver vissuto questo tipo di esperienze mischiate ovviamente a tutte le esperienze del settore giovane l'ander 19 e compagnia perché poi insomma è accaduta quelli che alleni adesso in l'ander 17 l'anno prossimo se non fra due anni se non l'anno prossimo saranno quelli che comporranno la rosa della prima squadra i rosa della prima squadra della prima squadra la nostra serie C ma comunque l'obiettivo è che questi ragazzi vadano tra 3, 4, 5 anni e là che poi si vede effettivamente se il nostro lavoro ha reso e ha funzionato vadano a riempire squadre di categorie superiori che insomma possano spiccare il volo per come si sono preparati durante questo settore giovanile l'obiettivo è che loro diventino giocatori giocatori comunque le migliori persone possibili anche fuori dal mondo della pallacanestro perciò proviamo a farli migliorare sotto questo aspetto ti senti oltre che coach anche un po' educatore? beh adesso educatore è una parola importante sicuramente avere a che fare con i giovani è una responsabilità e bisogna parlare con loro e provare a trasmettere non solo concetti di pallacanestro e di campo ma intanto di sportività credo perché è del saper stare al mondo come spesso si dice credo che in questo momento sia fondamentale avere a cuore il bene di ogni ragazzo a prescindere che poi segni o non segni un canestro quindi sì sicuramente è una responsabilità e fa parte comunque del lavoro dell'istruttore giovanile che è bello ed è completamente diverso da un allenatore senior perciò questo è un ruolo dove non si bada soltanto a vincere la partita la domenica anche perché noi le partite ne abbiamo almeno tre a settimana si deve si deve badare anche a saper vincere a saper perdere tutta una serie di cose che sono molto importanti allora siamo veramente in conclusione voglio leggere tra i tanti due messaggi perché uno è il nostro amico che ci chiede sempre chi vince lo scudetto e oggi aggiunge l'Eurolega ma poi c'è un altro che se lo trovo eccolo qua volevo dire a Federico che io sogno un suo canesso da tre punti alla sirena in gara sette del derby per andare in serie A è un sogno perché sette gare in serie A andare a due no anch'io lo sogno vediamo vediamo speriamo io sogno che noi arriviamo primi la libertà seconda così non c'era il derby io posso portare i miei figli tranquillamente a scuola però non lo so ce lo chiediamo anche noi sarebbe bello cinque gare a Livorno cinque derby di fila sarebbe figo vincerli magari magari senti ma l'ultima te la faccio io fatto 100 lo stato top di forma a che punto ti senti? ma in allenamento credo di stare bene di stare al 70% ripeto perché ho tanto tempo per per sbagliare mi serve quello tante volte i primi allenamenti io sono uno che cerca sempre o il canestro complicato o l'assist quello che gli allenatori un po' odiano e la testa inizialmente andava da una parte vedevo mi piace molto tante partite di basket non guardo l'NBA però la serie A la serie A2 la guardo tanti amici quindi vedo non so sul taglio con Matteo con Chiarini ci capiamo spesso al volo e magari lo vedo ma le mani o le gambe non rispondono e quindi sbagliando una o due volte in allenamento più tempo per sbagliare in partita secondo me oltre a non essere al 100% devo anche cercare la testa perché devo riuscire a mettere la testa in una cosa che praticamente in carriera non ho mai fatto perché in serie A giocavo comunque il titolare giocavo tanto cercavo sempre di giocare tanti minuti adesso riuscire a canalizzare un po' le scelte è complicato quindi non è solo il tendine che non risponde magari gli acciacchi che vengono dalla zoppia che ho fatto per 5-6 mesi il fisico la testa e tutto un insieme di cose però sto bene quindi il fatto che la squadra vinca anche senza per forza che io giochi tanto che mi sprema che posso allenarmi magari giocavo di più la domenica e il martedì non mi allenavo il mercoledì camminavo adesso invece sto dando tanto spero che tutto questo mi porti ai play-off a prendermi quello che l'anno scorso mi sono perso vedendoli da fuori insomma bene allora mi dovete soltanto due risposte prego soltanto il nome delle squadre chi vince il campionato e chi vince l'Eurolega campionato di Serie A1 di Serie A1 ovviamente è il nostro amico che ce lo che speriamo sia benaugurante per le squadre toscane dai un nome perché devo chiudere perché se no Alessandro Bologna Bologna Fede Milano Milano Conterraneo con Lua Banchi Bologna per forza per forza già ci mancherebbe Eurolega Real Madrid mi piacerebbe il Panathinaikos non sarebbe male tu Bologna Bologna sempre non sia quella coach Banchi che ricordiamo mi aspettava Reggio Calabria che rispondesse ma se ti dico Marche Campanano che mi dici? Ginobili Ginobili è più in là anche Benvenuti era con Campanano un po' di intreccio che poi Banchi tanto per chiudere Scuola do Bosco tanto per far capire che tipo di allenatori sono usciti da quella realtà siamo arrivati veramente in conclusione ringrazio di essere stato con noi Luca Valentino il coach della Computer Gross Empoli ciao Luca grazie a te Ale c'è due senza tre e lo sai vero? assolutamente come da contratto come da contratto ringrazio di essere stato con noi l'ala della Caffè Toscano PL Livorno Federico Loschi ciao Federico spero ti sia divertito certo grazie a voi bene ringrazio di essere stato con noi anche Francesco Barilla il coach della Toscana Food Don Bosco ciao Francesco ciao grazie buona serata un saluto a tutti voi amici telespettatori che ci avete seguito appuntamento rinnovato con Toscana Basket per la prossima settimana sempre qua su Telecentro sempre di lunedì sempre alle 20.30 grazie davvero ci vediamo tra una settimana bye